Ciao ragazzi, benvenuti su Belsit. Oggi ci troviamo in Val d'Orcia e visiteremo Bagno Vignoni. Bagno Vignoni si trova in provincia di Siena, nella bellissima Val d'Orcia. È celebre fin dai tempi dei Romani per i benefici delle sue acque termali. Nella Piazza delle Sorgenti, costruita sopra la fonte originale romana, vi è una grandissima vasca di 49 per 29 metri, con acqua termale a temperatura costante di 52 gradi. Tanti personaggi illustri scelsero questo luogo, come Santa Caterina da Siena, che si ritirò in preghiera sul loggiato che si affaccia sulla vasca. O Lorenzo dei Medici, il magnifico, che amava ritirarsi nel borco di Bagno Vignoni per poter studiare e goder di tutti i benefici delle sue acque. Nella piazza, proprio ridosso della vasca, troviamo la chiesa di San Giovanni. È facile innamorarsi del piccolo centro storico, con i suoi vicoli con le case in pietra, le locande che offrono cucina locale e le botteghe artigiane. Dalla piazza, le acque scorrono attraverso alcuni resti di mulini medievali. Seguendo il sentiero panoramico, si può andare a visitare il parco naturale dei mulini. Ciao ragazzi, siamo arrivati nei pressi della cascata di acqua termale che si butta nelle vasche. Guardate che spettacolo! Alla fine del percorso, si trova una vasca d'acqua rettangolare. Erano le terme libere romane, incastonate in un bellissimo paesaggio. Guardate che spettacolo Passaggio Questa risulta Per pensi che non concentre. Continua un interventi Porca di risultato Per pensi che sono którzy sterili. Questa attraverso, se hanno potuto il mondo dell'acqua. Questa risulta Questa risulta Alowo Questa risulta Questa risulta Questa risulta Questa risulta Hackeln Spero che il video di questo incantevole borgo della Val d'Orcia vi sia piaciuto. Nel caso lasciatemi un bel pollicione in su e sostenetemi iscrivendovi al mio canale e cliccando sulla campanella. Ciao ragazzi al prossimo viaggio!